Benvenuti e benvenuti al nostro telegiornale dell'arte, seconda edizione settimanale condotto come sempre da me, da Gabriele Boni e da Francesca Grazioli. Bentornati e benvenuto a te Gabriele. Benvenuta Francesca e Francesca ci porterà subito nel magico mondo di Icons, Steve McCary, giusto? Sì, perché al via dal 25 febbraio al 25 giugno prossimi alla mole vambitelliana di Ancona la mostra fotografica Steve McCary Icons, che raccoglie in 130 scatti il meglio della produzione del grande fotoreporter statunitense Steve McCary. Presentata dall'assessore alla cultura di Ancona Paolo Marasca, l'iniziativa è curata da Biba Giacchetti e organizzata da Sud-Est 57, che in sei anni ha proposto la mostra con grande successo in molte città italiane. Ad Ancona viene presentata nella sua forma ridotta, adatta agli spazi della mole, quindi 130 foto contro i soliti 250 scatti riservati a spazi più ampi. Ma sentiamo direttamente le parole di Steve McCary, che ci racconta le storie legate alle sue fotografie con questo servizio di Television Net. La idea for this book Untold really came about as I was going through old papers and old photographs, and it occurred to me that what a great idea it would be to show some of the back story, some of the process, some of the story surrounding the making of these pictures, because it seemed to me that was an entirely different approach, different story. This shows in some cases how difficult it was to get access and do these stories. I mean the monsoon was an incredibly arduous task in that I spent so much of my time up to my chest in dirty water and I don't think people may realize the amount of strange situations we find ourselves in as photographers. One of the great things about recollecting stories and going back into my past work and these 15 different stories was as I would dig through papers and old photographs so many old memories kind of flooded into my head and I suddenly started to remember things that I hadn't even thought of for sometimes 10 15 20 years so it was a really a wonderful way to kind of relive and to look back at all these amazing places and stories that I've been involved with for the past 30 years. And we remain in zona, sempre in provincia di Ancona, più precisamente questa volta a Osimo, dove dal 19 febbraio e fino al primo di ottobre va in scena a Palazzo Campana Capolavori Sibillini, l'arte dei luoghi feriti dal sisma. Il titolo evocativo è stato scelto da Vittorio Sgarbi che presiede il comitato scientifico dell'allestimento. Come anche sua è la scelta dell'immagine icona del manifesto che rappresenta la Sibilla dipinta da Corrada Gianquinto di Montefortino. L'esposizione raccoglierà una selezione di oltre 100 opere salvate e trasferite dai territori terremotati. Gli introiti garantiranno risorse per il restauro delle opere tutte danneggiate dal sisma. Andiamo a vedere qualche immagine. Grazie a tutti. 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 ma anche uso nelle chiese proto-cristiane, hanno una locazione diversa dagli uomini e stanno di solito nel mafroneo che è di sopra, eccetera. Ora, siccome sono poche, mezze stanno di qui e gli uomini stanno di qua. Perché le donne non hanno l'obbligo della preghiera come l'uomo? Certo, si pregano meglio per loro, mentre l'uomo ha un impegno di una preghiera tre volte al giorno, nelle diverse ore, la donna si prega bene, se non prega va bene uguale. Perché? Non perché sia inferiore, perché avendo delle funzioni di mantenere l'ordine e tutto l'organizzazione familiare, se le si desse anche l'obbligo di pregare tre volte al giorno, naturalmente andrebbe ne matti. Quindi, leviamoli questo impegno, fate che sia una buona moglie, una buona madre, una buona organizzatrice dei servizi familiari e quella è la sua preghiera migliore. Passiamo ora alla proposta letteraria con Teorema dell'incompletezza di Valerio Caglieri. L'autore, al suo esordio, costruisce un romanzo carico di tensioni e colpi di scena. Il titolo si riferisce al teorema matematico secondo cui vi sono delle realtà vere ma non dimostrabili. La storia è quella di due fratelli che indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat, ucciso nel 2004 nel suo bar di Centocelle durante una rapina. I fratelli scoprono diverse informazioni sul passato insospettabile del padre. Dietro all'uomo confinato al tifo sportivo emerge infatti uno sconosciuto, segnato da segreti e contraddizioni che affondano negli anni della contestazione e della lotta armata. E dalla proposta letteraria passiamo alla nostra rubrica cinematografica con Arrival, il film fantascientifico che ha sorpreso tutti all'ultima mostra del cinema di Venezia. L'acclamato regista del sequel di Blade Runner, Denis Villeneuve, mette in scena un intrigante racconto dalle derive filosofiche. La pellicola ha per protagonista Louise Banks, interpretata da Amy Adams, una linguista di fama mondiale che tenta un nuovo inizio dopo la morte della figlia. L'occasione arriverà quando sulla Terra compaiono degli enormi e misteriosi oggetti alieni che lei dovrà provare a decifrare. Vediamo. Buongiorno, l'argomento che affronteremo oggi saranno le lingue romanze. Vuole condividere con noi? 8 ore dopo l'atterraggio non ci sono segni di un primo contatto. Gli oggetti sono alti almeno 450 metri. Mamma, che cosa succederà? Non lo so. Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi. Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Webber. Lei ha un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ho una cosa che deve tradurre per me. Questi sono... Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere. Ultima situazione stressante? Questa conta? Servono risposte quanto prima. Che cosa vogliono? Da dove vengono? Sei pronta? Io non... Sì, è tutto vero. Che succede ora? Ora arrivano. Oh mio Dio. Quante sono? Con questa 12. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni? Io torno dentro. Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati. Voglio tutti al lavoro qui. Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa. Che cosa dice? Portare arma. Non mi serve un interprete per capire che vuol dire. Non sappiamo se capiscano la differenza che c'è fra arma e strumento. La Cina ha minacciato di distruggere il suo guscio. In ogni caso, la Francia e la Corea la seguiranno. Potrebbe diventare una guerra globale. Dobbiamo parlare con gli altri siti. E collaborare stavolta. Abbiamo 15 ore. Prima che vada tutto al diavolo. Stai sognando nella loro lingua. So perché sono venuti. Che accidenti sta facendo? Fidati di me. Continuiamo a parlare di cinema con il 56esimo anniversario della carica dei 101. Il 25 gennaio 1961 usciva infatti nelle sale americane il classico Disney che ha segnato l'infanzia di diverse generazioni. Facendo innamorare tutti dei cani Dalmata. Il cartone si è poi guadagnato una pellicola nel 1996 con attori veri. Prima fra tutti l'iconica Glenn Close nei panni di Crudelia De Mon. Ma ecco alcune curiosità che forse non tutti sanno sul classico Disney. Doody Smith, l'autrice del libro da cui è tratto il cartone, ha veramente avuto 15 cuccioli di Dalmata tra cui uno di nome Pongo come il personaggio del film. E inoltre qualcuno ha pensato di contare tutte le macchie che compaiono in ogni frame del film che risultano essere in totale circa 6 milioni e mezzo. Ma andiamo a rivederne un assaggio. Vogliamo fare una passeggiadina nel parco? Papà, usciamo? Fate quello che dice la mamma. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici Io non ho sonno, ho fame Quattordici Non dimenticate amici mandate soltanto cinque Ora basta la chi... Un interessante studio inglese ha stilato la classifica degli ultimi anni migliori tra i cento appena passati ed ecco il risultato che è curioso al primo posto non troviamo il 1985 come Francesca Grazioli crede perché è il suo anno di nascita piuttosto è il 1945 l'anno in cui finì la seconda guerra mondiale in cui fu liberato il Lager di Auschwitz e in cui venne istituito sia l'ONU che l'UNESCO fu anche l'anno in cui le donne in Italia conquistarono finalmente il diritto di voto fu anche l'anno in cui George Orwell pubblicò la fattoria degli animali e l'anno in cui nacque Bob Marley il 1945 subito seguito al secondo posto dall'anno 1957 ovvero l'anno in cui andò per la prima volta in onda carosello in cui debuttò la nuova Fiat 500 e fu lanciato il primo satellite nello spazio parliamo ora di tecnologia è Meta la prima acquisizione da parte della fondazione Chan Zuckerberg l'organizzazione filantropica di Mark Zuckerberg il fondatore di Facebook e di sua moglie Priscilla Chan Meta è un motore di ricerca in grado di analizzare rapidamente le pubblicazioni e le ricerche mediche per estrarne i concetti chiave così da renderli immediatamente alla portata degli studiosi al momento non è stata comunicata l'entità dell'investimento economico messo sul piatto per portare a termine l'operazione ma nel settembre scorso i coniugi Zuckerberg avevano annunciato l'intenzione di investire 3 miliardi di dollari nella ricerca biomedica attraverso la fondazione cui viene destinato il 99% delle azioni Facebook in loro possesso l'obiettivo combattere e sconfiggere le malattie del mondo entro la fine del secolo continuiamo a parlare di tecnologia con una nuova applicazione per smascherare il falso made in Italy dal parmesan al finto asiago dall'aceto balsamico di Modena a Fasullo ai Wine Kit sono solo alcuni dei più noti tarocchi diffusi all'estero che imitano le eccellenze agroalimentari made in Italy è il fenomeno dell'italiano sounding ovvero prodotti che vengono spacciati per italiani ma che italiani non sono per nulla è un mercato che nel mondo vale oltre 54 miliardi di euro pensate il doppio delle esportazioni dei prodotti originali da oggi però per stanare le false eccellenze della neogastronomia italiana basterà una semplice app promossa dall'associazione no profit Riliab Italy che riconosce il prodotto e reindirizza l'utente sulla pagina web dell'articolo di interesse questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi alla prossima puntata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti